Il prossimo pezzo è un'altra storia particolare, vale a dire, è stato forse il secondo pezzo musicalmente a essere stato composto dai qui presenti, e l'ultimo pezzo del quale è stato trovato la linea vocale e nonché il testo. Era un po' difficoltoso, probabilmente mi navigava un guido a questo settore, non lo so. Togli una gran caratteria, dice, lo che non sei cadere. Togli una gran caratteria, dice, lo che non sei cadere. Togli una gran caratteria, dice, lo che non sei cadere. Togli una gran caratteria, dice, lo che non sei cadere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.